Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno, siete su Fano TV, canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione Marche, c'è l'informazione di prima mattina con la lettura dei giornali, titoli delle notizie più importanti che abbiamo selezionato per voi dal resto del Calino e il Corriere Adriatico. Iniziamo dal Santo del Giorno, lo vediamo subito con il cartello, oggi è San Lorenzo, il sole sorgerà alle 7,5 e tramonterà alle 16,45. Andiamo subito a vedere il tempo, novità, da lunedì in arrivo piogge, temporali, vento su parte dell'Italia, tutti i dettagli sul sito di Trebimeteo, ma nello specifico dalla protezione civile delle Marche per oggi, sabato 14 novembre avremo cielo sereno sulla costa con qualche annuvolamento, nuvole basse stratificate, ma non ci saranno piogge per domani, domenica ancora cielo sereno poco nuvoloso, con venti invece in aumento dalla serata sulla montagna, ma lunedì ecco il peggioramento annunciato, avremo lunedì deboli diffuse precipitazioni che assumeranno carattere di rovescio nel pomeriggio e dunque cielo nuvoloso in aumento dalla mattina, poi la pioggia dal pomeriggio, miglioramento del tempo da martedì. Siamo arancioni, questo ormai è ufficiale, ieri è arrivata purtroppo la notizia che la regione Marche ha cambiato colore, da gialla che era è diventata arancione, una decisione presa dal governo di Roma che però ha provocato qualche mal di pancia all'interno della giunta regionale, in primis Acquaroli che non l'ha presa molto bene. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere i titoli dai giornali di oggi. Il resto del Carlino, questa è la pagina nazionale con l'Italia, vedete i colori che sono cambiati rispetto a 24 ore fa, anche dunque le Marche così come l'Emilia Romagna sono diventate arancioni. Dunque vietati gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, chiusi da domani bar e ristoranti. Retrocesse dunque con l'Emilia Romagna anche caos nelle norme, da domani chiudono bar e ristoranti, vietato spostarsi da comune a comune, timidi segnali positivi dei contagi, economia ecco la bozza della manovra antivirus fino a 40 miliardi del nuovo debito pubblico. La pagina invece del Carlino di Pesero, senso unico per i pedoni, misure anti-covid in centro a Pesero, si cammina solo in un verso. Il sindaco Ricci firma un'ordinanza definita dal giornale storica, imponendo passeggiate pilotate per evitare contatti e quindi la propagazione del virus. I divieti valgono dalle ore 15 alle 20 di oggi e domani. Quindi attenzione soprattutto ai pesaresi che lì vivono, ma anche a chi ha intenzione di andare, almeno oggi ancora si può fare, a Pesero, da fuori comune, perché appunto in centro bisognerà stare e seguire le indicazioni. Non si può andare nel doppio senso, a piedi bisogna seguire il senso unico. Anche queste sono misure anti-covid. Marche Arancioni, ecco che cosa cambia. Da domani le nuove restrizioni, bar e ristoranti chiusi, vietati gli spostamenti tra comuni e regioni. Mentre lo sport, otto positivi nella VL salta la sfida con la Virtus, Vis si dimette, Borozan anche il Fano si ferma perché il Legnago dà forfè. Ma la polemica, dicevamo, Acquaroli non ci sta, servono criteri oggettivi, non l'ha presa molto bene il governatore che nei giorni scorsi si era affrettato a dire anche con un po' di ottimismo, che noi stavamo comunque tutto sommato meglio con l'indice RT rispetto alle altre regioni. Comunque, operatori sanitari, la protesta davanti all'ospedale, poi autodichiarazione, anche qui oggi troverete all'interno del giornale l'autodichiarazione da ritagliare. Il festival, ovvero il Rossini Opera Festival, solo su internet, solo online, si inizia con Marangoni. Poi le banche, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per 32 filiali e anche la sede della Carisp. Definiti i dettagli dei passaggi da intesa in provincia, il travaso più consistente. La pagina di Ancona del Carlino, arancioni di rabbia, la fotonotizia, nuove restrizioni, il ministro Gela e il governatore Quaroli, le marche cambiano fascia, da domani bar e ristoranti chiusi. Andiamo sul Corriere Adriatico, Marche Arancioni in ritardo, il governatore inserisce la nostra regione nella fascia di rischio superiore, Acquaroli parla di scelta incomprensibile, resteranno chiusi, ristoranti, bar e gelaterie, consentito solo l'asporto e di vieto di uscire dal proprio comune. Le regole da seguire dunque da domani le troverete sulle pagine interne del Corriere Adriatico che pubblica anche la foto, la cartina dell'Italia che si colora soltanto a questo punto il Lazio, Sardegna, Molise, poche altre regioni sono ancora in giallo, il resto rosso e arancione. Ex Amga invece, sempre dalla prima del Corriere, dai proprietari un nuovo ricorso al Tare, il 18 novembre fissata l'udienza, il legale Mantero dice l'area dopo la bonifica deve tornare edificabile. Entriamo nelle pagine interne e allora andiamo a vedere il resto del Carlino, pagina 4 del Carlino di oggi, bar e ristoranti chiusi, stop agli spostamenti, lire di Acquaroli, le marche diventeranno arancioni, ma che cosa dice nello specifico Acquaroli? Lo vediamo qua, è un paradosso, dice il governatore, essere condannati a causa dell'indice molto basso dell'ultima settimana di ottobre e tutto questo dovrebbe avvenire con un criterio oggettivo, non solo tramite un indice che ormai non è più riferito alla situazione attuale. Acquaroli lamenta poi una mancanza di collaborazione, avrei preferito, dice, una comunicazione più importante da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, visto che i nostri dati li abbiamo consegnati martedì e ci sono stati tre giorni in cui avremmo voluto almeno una telefonata per confrontarci. Sarebbe stata un'ordinanza ragionata. Mentre vi segnalo una interessante intervista che il Resto del Carlino, edizione di Ancona, pubblica sul giornale di oggi. Un'intervista a Nadia Storti, direttore generale dell'Asur. Abbiamo toccato tutti i fronti caldi a partire dal personale. L'intervista è di Pierfrancesco Cursi e Nadia Storti dice stiamo combattendo una guerra, ma qui non si trovano medici e infermieri. Sentite che cosa dice la dottoressa Storti. Si tratta di un... Allora, la domanda è davvero così difficile reperire medici ed infermieri? La risposta della Storti si tratta del problema principale. Le risorse ci sarebbero pure, quindi i soldi, non è una questione di soldi, ma non si trovano le persone, specie alcune figure. Penso agli anestesisti, ai rianimatori, non ce ne sono. Quelli che abbiamo servono per mandare avanti gli ospedali. In tempi normali non c'era da scialare, ma si andava comunque avanti. In tempi di guerra, come questo, la coperta dunque è corta. Anestesisti fondamentali per il Covid Hospital di Civitanova. Attiverete altri moduli operativi lì. Due sono pieni, dice riferendosi a Civitanova. Sono pieni e attivi da qualche settimana. Uno di terapia intensiva e uno di semi-intensiva. Abbiamo aperto il terzo, misto tra le due intensità di cura, ma oltre non credo riusciremo ad andare. Proprio per una questione di personale. Sappiamo che ci sono quasi 100 posti, però è inutile. Insomma, non c'è il personale. Che cosa ne pensa del Covid Hospital? Ci permette di tenere più puliti gli altri ospedali. Ma ancora sul problema delle carenze dei medici. Cosa pensate di fare? Concorsi continui, risponde Storti, a tempo determinato ed indeterminato. Contratti di collaborazione per medici in pensione, prendere gli specializzanti del quarto e del quinto anno o personale da strutturare esterne. E poi medici militari della protezione civile. Insomma, di tutto, ma non basta. E poi parla degli infermieri, il concorso il primo dopo tanti anni. E poi, insomma, parla anche di altre cose interessate. Per esempio, sulle visite, le liste d'attesa, gli esami, quelli che sono programmati, la diagnostica programmata. Che dice la Storti? Credo presto dovremmo ridurre un po'. A proposito di personale. Servono anche tecnici radiologi, aggiunge lei. Per il resto le attese in questa seconda fase si stanno comunque riducendo. Sempre parlando delle visite programmate, le liste d'attesa. Non accadrà come nella prima fase. Al tempo era tutto improvvisato, adesso sappiamo cosa fare. C'è una buonissima notizia. A dicembre torneremo al pari con gli screening oncologici. E questa è una parte dell'intervista che potrete trovare. E qui mi riferisco a quelli che hanno la possibilità di comprare l'edizione di Ancone. Intanto a Mondavio i positivi sono già saliti da 11 a 42, ma sono tutti asintomatici. È un report del sindaco sulla casa di riposo di Mondavio. Il comune è più esposto praticamente della Val Cesano. Intanto sono stati annullati i mercatini, ma il Natale non si spegne. La Proloco di Mondolfo ha rivisto in sostanza un po' tutto il programma. E poi a San Costanzo la prima riunione da remoto, cioè su internet del Consiglio Comunale. A Fano contro il Covid pronte invece 15 aree per praticare sport all'aperto. È stata approvata la delibera dall'assessore Barbara Brunori. Basta prenotare gli spazi in comune. Provedimento a favore di associazioni cittadini bloccati dalle norme di prevenzione. A Sant'Orso contro il teppismo confronto con il Rione. L'impegno per l'ente locale assunto dal PD dopo i disordini di Halloween. A Pesaro dicevamo di questa ordinanza cosiddetta storica, sensi unici per i pedoni in centro. Il virus rovina anche il cosiddetto struscio. Anche dunque oggi e domani dalle 15 alle 22 passeggiate pilotate in via Branca, in via Rossini e lungo il corso. In queste vie sarà proibito usare biciclette e monopattini. Vietato anche sedersi sugli scalini della prefettura e del comune. Una cosa invece molto più light, molto più leggera, sicuramente a Fano con il sindaco Massimo Seri che invece toglie le panchine da Piazza 20 Settembre e ha limitato il loro utilizzo praticamente in tutto il centro storico. Così a Fano si tenta di evitare gli assembramenti prima del coprifuoco delle 22. Ieri nelle ore immediatamente precedenti all'annuncio del Presidente della Regione Acquaroli che le marche erano diventate zona racione, anche il sindaco di Fano aveva dato disposizioni in merito alle cose da fare e da evitare in città. E dunque all'interno del territorio comunale, hanno spiegato il sindaco Seri e il comandante della polizia locale a Narita Montagna, vi sono luoghi dove si formano assembramenti e non viene rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. Pertanto abbiamo ritenuto necessario adottare iniziative per salvaguardare la salute pubblica. E quindi poi dice a proposito del fatto che Pesaro ha deciso per il senso unico pedonale per le vie del centro, dice a Fano era un po' difficile attuarlo e quindi abbiamo preferito eliminare le panchine. Andiamo a Monte Felcino, sempre dalla cronaca del Carlino. Uno scuola bus che è finito in fiamme, i bambini subito in salvo, paura a Monte Felcino, ma l'immediato intervento dell'autista ha evitato il peggio, domando anche le fiamme e i danni poi alla fine sono stati lievi. L'uso corretto dello strumento, dell'estintore, ha consentito di salvare il bus dalla fine certa, quello cioè di andare completamente distrutto. Il sindaco rassicura l'automezzo è stato revisionato, facciamo regolarmente le opere di manutenzione. Qui di spalla invece una notizia sempre da Monte Felcino di un operaio che di appena 23 anni si chiamava Leonardo Barone, operaio di Ile, padre di tre figli. Il giovane era residente a Recanati, però ha avuto un incidente sul lavoro a Monte Felcino. Questo è avvenuto nella mattina del 17 luglio, ne abbiamo parlato anche noi a Monte Felcino, si trovava insieme ad altri colleghi in un cantiere ed è stato colpito la testa da una lamiera. Dopo tanti mesi di coma purtroppo è morto e dunque non ce l'ha fatta. Torniamo sulle pagine locali di Fano, la pagina del Carlino, parcheggi liberi a Natale, parcheggi liberi a Natale, ma prima però si paga. A lunedì prossimo via Legramci diventa blu, fino a 7 dicembre incluso, poi invece dall'8 dicembre tutto free, cioè tutto libero, i parcheggi saranno liberi praticamente dall'8. Quindi per Natale c'è questa novità che tutti i parcheggi nuovi, quelli che sono stati pitturati adesso, che prima erano bianchi con il disco orario, adesso sono diventati blu e quindi a pagamento, quelli vicino, quelli praticamente che costeggiano il viale Gramci dove si fa il carnevale durante l'inverno, ecco quei parcheggi lì saranno a pagamento fino a 7 dicembre, poi dall'8, durante dunque le festività di Natale fino al 26 dicembre, tutti questi 87 stalli diventeranno liberi e quindi non a pagamento. L'ha annunciato Massimo Seri e l'assessore alla qualità urbana Fabiola Tonelli. Speriamo così, dicono che arrivino i clienti, per Aset però si tratta di meno entrate per circa 45 mila euro. Per Natale liberalizzati i parcheggi, anche il Corriere Adriatico dedica questa iniziativa, questa pagina, questa iniziativa che tende a favorire, si spera almeno, il commercio. Subito il plauso dei commercianti, dall'8 al 26 dicembre la Giunta rende gratuiti gli stalli blu all'interno, in prossimità del centro storico. Intanto Aset installa 27 punti luce LED in 11 zone fanesi. Sono 27 nuovi punti luce, lampioni, chiamiamoli come volete, insomma articolata così l'ultima tranche di interventi con cui Aset ha portato a conclusione la campagna triennale cominciata nel 2018 che includeva anche il progetto parchi e viali mercurio free. Quindi nuovi punti luce, credo che siano anche nella zona di Sassonia, sono molto belli. Aguzzi invece, restando sempre dalle parti del mare di Fano, Aguzzi si è impegnato con i concessionari di spiaggia, a Torrette, secondo stralcio delle scogliere, l'assessore regionale promette il riperimento di altri fondi per mettere in sicurezza il litorale. Ora servono però 3 milioni e mezzo di euro. Confermati gli impegni della precedente giunta per le opere della foce del Metauro e a Metauriglia. Poi sull'altra pagina, anche qui, del Carlino, su questo argomento, 7 milioni contro l'erosione, scogliera, Aguzzi, Calma, i bagnini, sono 3 milioni e mezzo per il tratto della foce del Metauro a Baia Regina. Stessa cifra per realizzare invece le barriere fino a Torrette. Eccoli i lampioni, vedete? Guardate che belli, i lampioni che vi dicevo poco fa, qui c'è anche la fotografia sul resto del Carlino, 27 nuovi punti luce, 11 zone che adesso sono certamente più sicure. Qui si tratta della passeggiata che chiaramente va risistemata perché non è che sia bellissima, però intanto partiamo dalla luce, luce che servirà a illuminare una passeggiata non certo bella, ma che verrà presto sistemata. Intanto l'intervento 35 mila euro. Andiamo a Pesaro. A fare fatto, 32 filiali passano alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ceduta anche la sede della Carisp. Solo Pesaro, su Pesaro, il travaso riguarda 10 sedi, comprese Loreto e Piazza Garibaldi. Sindacati in allerta per capire bene i contorni di questa rivoluzione partita nel credito. Cessioni imposte anche dall'antitrust in provincia a copertura del mercato, in alcuni casi anche del 60%. Il biodigestore invece. La questione del biodigestore ora lo vuole anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Tavuglia non lo vuole a Talacchio. Ieri tavolo di confronto tra i sindaci con provincia, Aset e Marchi Multiservizi per discutere l'impianto. Il sindaco di Pesaro propone un'area alla fine di Via degli Abeti. La collega Paolucci dice invece meglio farla altrove. Non si tratta dell'ex pica, come era stato ipotizzato nella zona di Pesaro. Ormai quell'ipotesi è remota, visto il costo milionario del terreno, ma dell'area di espansione industriale alla fine di Via degli Abeti, nel comparto in cui anche la Fiam avrebbe potuto espandersi. Il PD è stato punito sulla sanità, tuteliamo la salute dei cittadini. Parla il consigliere regionale Bajocchi, Nicola Bajocchi, che replica al sindaco Ricci. Si sbaglia, ci hanno votati per il no all'ospedale unico. Mentre ora togliete 50 posti letto alla clinica privata di Fano, la capogruppo del Movimento 5 Stelle incalza il centrodestra sulla dotazione congelata. Annullata invece la nomina di Sgarbi, una mozione da Urbino del Partito Democratico e della lista Viva Urbino contro il prosindaco per l'indecoroso comportamento associato ad Urbino. Il critico d'arte ieri era a Roma, nella capitale, con il ristoratore Umberto Carriera, animi tesi, nella sua casa romana. Mentre sotto, di taglio basso, sempre dalla pagina di Urbino, Galleria Nazionale, dietro il portone si lavora, staff diretto dal neodirettore Luigi Gallo per l'allestimento di nuove sale e per la manutenzione. Il Carlino sulla pagina di Urbino invece si occupa del Santa Lucia, il centro commerciale, quello inserito, incastrato in mezzo alla collina. Negozi chiusi, il supermarket rimane aperto, gli esercenti tecnicamente potevano evitare di abbassare le saracinesche, i commercianti hanno però deciso diversamente. La galleria è al chiuso e quindi meglio non rischiare. Giornata del diabete, anzi, mondiale del diabete, prevenzione da non trascurare. Questa invece è l'altra pagina del Corriere Adriatico, le pagine interne, Vallefoglia. L'elizio corso atterrerà anche di notte. Scelti gli stadi Spadoni e di Via Palme, la Giunta, in accordo con la centrale operativa del 118, ha individuato due aree per le emergenze. Acquistati due pulmini con i contributi di Banca di Pesero e Riviera Banca per l'ONUS Nonno Mino. Centri commerciali finti, altra mazzata per i bar. La risposta delle istituzioni, sollecitata da Carloni, superata dalla zona arancione. Ormai c'è niente da fare, bisogna stare chiusi. Ormai siamo in zona arancione, quindi non ci si pone più il problema. Mondolfo e Marotta invece pronti all'emergenza. Il piano di protezione civile è completo, grazie alla nuova sede del Centro Operativo Comunale, la segnaletica e il sistema radio. Il vice sindaco Carlo Diotalevi dice focus contro gli allagamenti, nuove mappe, ma il piano va sempre aggiornato. Sotto, anzi no, l'altra pagina, quella di Senigallia, a spasso, senza mascherine, multati in sei. A distanza di un mese dall'ordinanza di obbligo sono scattate diverse sanzioni dei carabinieri. Intanto salgono a 189 i contagiati a Senigallia. Le risposte sui tamponi ora arrivano dopo 48 ore e ciò crea maggiori problemi. Mentre di taglio basso, ti ricordiamo ogni istante con i tuoi figli Eleonora, celebrata nel giorno del compleanno. Parliamo di Eleonora Girolimini nel giorno del suo 41esimo compleanno. Eleonora è la mamma che ha perso la vita nella strage della discoteca Lanterna Azzurra. Il Corriere Adriatico da Senigallia, il comune ha debiti per 33 milioni di euro, stoppa i lavori in piazza Simoncelli. Il sindaco dice la riqualificazione potrà essere fatta, ma senza mutui, resteranno i posti per le auto. Gli alberi non saranno eliminati e sarà sistemato anche il manto stradale. Poi di taglio basso, Reggeni, striscione rimosso, elette racconte. Il primo cittadino di Senigallia chiede al governo interventi per il giovane ucciso. Dunque Olivetti rimuove però lo striscione dedicato a Giulio Reggeni e scrive al Premier Conte e al Ministro Di Maio chiedendo giustizia per il giovane ricercatore ucciso in Egitto. Ponte 2 giugno, iniziata la demolizione, il cantiere aperto anche nel fine settimana, il Consorzio di Bonifica spinge sull'acceleratore per recuperare il tempo perso a causa del ritrovamento delle bombe. Il turno degli operai prolungato fino alle 10 di sera, la nuova struttura è pronta a Pordenone, deve essere solo trasferita qua. Valmetauro, Aguzzi, da Colli al Metauro, Aguzzi non mantiene la parola, fugge per ambizione personale. Il titolo, la polemica di Cristian Bellucci, il consigliere, durissima critica del consigliere di maggioranza, si parla del sindaco decaduto, Aguzzi, ormai lo sappiamo tutti, è assessore regionale, e dunque sottolineare che l'unico neo e che i cittadini di Colli al Metauro torneranno a votare con un anno di anticipo dà l'impressione che si voglia minimizzare la vicenda che ha portato l'ex sindaco Stefano Guzzi ad abbandonare il suo mandato di sindaco per la regione. Ha commentato dai banchi della maggioranza, Bellucci, nella pubblica assise, che ha deliberato la decadenza dell'ex primo cittadino. E siccome è di maggioranza, certamente queste dichiarazioni così forti finiscono sul giornale, proprio perché è di maggioranza. I ristoratori invece si impegnano per aiutare i poveri, oggi e domani, raccolta di fondi, dei clienti e offerta del costo dei coperti. Siamo a Fossombrone, dove i ristoratori aderiscono alla giornata mondiale dei poveri. Siamo allo sport, andiamo a vedere le pagine sportive, ci sono delle novità, il Covid spolpa la rosa del legnago, è dunque il Fano costretto a rinviare la partita, la gara, la squadra ospite, non riesce ad arrivare a 13 giocatori disponibile, dunque l'allenatore destro ora ha più tempo per lavorare con i suoi giocatori. Sul fronte invece della Vis, Borosan si è dimesso ieri dalla carica di direttore generale, dopo le critiche dei tifosi arrivate negli ultimi giorni, dice sono il principale responsabile di questa situazione, nel pomeriggio il Presidente Ferri lo aveva difeso dalle critiche e dai tifosi. Ecco che cosa dice, dice così, ho lavorato con onestà, serietà e totale dedizione per la causa, quindi la vis, non voglio commentare nulla, ma dico solamente che il mio orgoglio è e sarà sempre superiore a tutto. la faccia, l'ho sempre messa, così me lo hanno insegnato, vi saluto e vi abbraccio tutti, grazie e forza Vis sempre. La Vis Pesaro ha ringraziato l'operato svolto con professionalità ed edizione da Vlado Borosan nelle due stagioni in bianco-rosso. e anche sul fronte della Palacanestro la situazione non è che va meglio, non dal punto di vista societario, ma sanitario. Vl è costretta alla resa, vince il Covid, cinque atleti e tre elementi dello staff positivi al coronavirus, rinviato il confronto di stasera che avrebbe visto Pesaro sfidare la Virtus. L'analisi di Ario Costa, in questo momento giusto pensare solo alla salute dei nostri ragazzi, la pandemia non fa sconti e è già in dubbio la gara con Reggio a rischio dunque anche il match del 22, mentre la Lube a Civitanova gioca d'anticipo e domani ospita la sorpresa Vibo Valencia, ufficializzato dalla Cev il girone di Champions, a Tours l'8 dicembre, subito il derby con Perugia. Siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna stampa, alla lettura dei titoli, delle pagine più importanti, selezionate per questa mattina, finisce qui. Vi auguro una buona giornata, vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro magazine Sette per Occhio che racchiude non solo le pagine e le notizie più importanti della settimana che vi abbiamo già proposto nel corso dei telegiornali, ma abbiamo sempre spazio, soprattutto all'inizio del magazine, alle notizie del giorno, quindi se ci sono notizie importanti, oggi ce ne abbiamo, ve le inseriremo e ve le faremo vedere. Quindi non è un telegiornale con la conduzione in studio, ma è un magazine con l'inserimento anche di notizie dell'ultima ora. Poi noi ci vediamo lunedì, lunedì mattina alle 7, ci sarà la rassegna stampa, poi siccome siamo in zona arancione, da domani le cose cambiano un po', si cerca di restare comunque in casa, anche se nel comune, come abbiamo visto, ci si può spostare, ma l'invito è quello di rimanere il più possibile, di evitare gli spostamenti, di stare comunque in casa per cercare di uscirne al più presto da questa storia, almeno per poter passare il Natale in Santa Pace, da lunedì mattina, dopo la messa delle 7.30, ci ritroveremo per passare un po' di tempo insieme, un po' di collegamenti, un po' di cose, abbiamo un po' di cose da raccontarci e quindi di farci compagnia. Lo facciamo proprio in previsione di questo mini lockdown, o lockdown della Regione Marche, nella nostra Regione, quindi lunedì continueremo, dopo la messa, a stare insieme e a farci un po' di compagnia. Intanto vi auguro, a nome mio e di tutta la squadra di Fano TV, di trascorrere un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie. Grazie.